Musica 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 Salve gente e benvenuti in questo nuovo video prank alla mia famiglia oggi siamo qui per un video irripetibile, sarà il primo prank a mia cugina, dato che lei è aracnofobica, gli faremo uno scherzo con un ragno telecomandato Ieri sono partito e mi sto facendo un weekend a casa di mia cugina vicino Caserta, dato che pochi giorni fa su Instagram ho pubblicato l'acquisto di un ragno radiocomandato semplicissimo, comprato su Amazon, però veramente realistico e terrificante dato che mia cugina è terrorizzata, e dico terrorizzata, dai ragni oggi, grazie a questo ragno telecomandato, lei sta di sotto a dormire è pomeriggio, verso le tre e mezza così quindi è l'ora del riposino scenderò giù 4-4 mettendogli il ragno più vicino possibile poi mi allontanerò di qualche metro e glielo farò camminare sulla testa, comunque se volete un altro scherzo a un altro membro della mia famiglia lasciate un like arriviamo a mille e cinquecento like e non mi perderei in altre chiacchiere iscrivetevi al canale grazie mille per i sessantamila e buona visione grazie mille per i sessantamila qui Sì Oddio 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 Vieni cane, guarda Guardati ma chi è Guardati Spero tanto che questo video vi sia likeato Se così stavi a lasciare un like, un commento E di iscrivervi al canale Attenzione, ancora lui ha vinto Io avevo detto che questo ragno avrebbe fatto i danni Attenzione, andiamo direttamente dalla diretta interessata Allora, ve la presento Lei è mia cugina E ci, quali sono le tue ultime considerazioni? Dopo aver visto che era quinto Dato che l'hai frullato Io non so nemmeno più se funziona Ma questo è pure che non funzionerà più E 12 euro le devi spendere Il cane si è messo paura Visto il ragno che si è messo paura se ne è andato Quindi, mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale Secondo me è un cane normale Secondo me è una scorsa Ovviamente là sotto Esci, esci fuori Allora, mi raccomando Se non l'avete fatto Iscrivetevi al canale Lasciate like a questo video E seguitemi su Instagram Ragazzi Mi avevate chiesto un prank alla mia famiglia E vi ho accontentato Noi ci vediamo in un prossimo video Bella per voi E mi raccomando Fate i bravi E mi raccomando E mi raccomando Che succede Che succede Grazie! Grazie! Grazie!